ciao ragazze ciao ragazzi eccomi qui con un nuovo video per aggiornarmi un po della mia estate in particolare per farvi scoprire due prodotti che sono praticamente diventati dei miei must in quest'estate sono certa che quando li proverete bene innamorerete sono di freshly cosmetics un brand tutto naturale con ingredienti di altissima qualità clini che il t veramente veramente ottimo e questi due prodotti sono per il corpo io aiuteranno a combattere la cellulite la ritenzione a tonificare la pelle lasciano la pelle così setosa tonica scolpita rassodata e soprattutto fanno un bellissimo effetto glo quindi con la luce poi del sole tendiamo a brillare tutte ad oro io amo utilizzare le in combo il primo il siero all'acido ialuronico che contiene anche delle speciali alghe che vanno a contrastare le vene varicose la ritenzione ingredienti che rassodano la pelle piacevolissimo perché un gel super rinfrescante quindi applicato la sera ma anche di mattina io lo porto anche in vacanza in piscina per i weekend fuori perché mi dà immediatamente solivo subito dopo applico l'olio golden che ricco di oli pregiati che combattono e prevengono le smaiature inoltre lascia la pelle piacevolmente luminosa ravviva tantissimo la bronzatura e quindi l'effetto anche spiaggia in giro in città in vacanza è bellissimo sulla pelle perché la pelle splendide e super luminosa io lo porto con me anche in piscina al mare in vacanza entrambi i prodotti sono veramente di qualità ed è un piacere applicarli dopo la doccia infatti il miglior modo per beneficiare delle proprietà di questi ingredienti applicarlo subito dopo la doccia entrambi i prodotti prima il gel all'acido ialuronico e il siero gel e poi subito dopo il radiance body oil golden che quindi quest'olio che va a nutrire la pelle ravviva la bronzatura sono fantastici anche dopo l'esposizione solare perché vanno a ripristinare tutta l'idratazione della pelle enfatizzano la bronzatura e ci aiutano anche a combattere e a prevenire gli inestetismi della cellulite delle smagliature la ritenzione il rilassamento cutaneo io vi consiglio di provarli ora che sono scontati con il mio codice al 25 per cento di sconto il codice è carlita dolce e vi metto nel box informazione i link dei due prodotti che appunto vi ho presentato così cliccando sopra potete accedere direttamente al sito e acquistarli fatemi sapere poi come vi trovate io veramente li sto amando perché mi piace tantissimo la sensazione sul corpo non li utilizzo solo sulle gambe anche se nel video magari vi ho mostrato di più le gambe ma l'utilizzo praticamente su tutto il corpo anche sulle braccia sul decolleté sulla pancia sui glutei perché grazie a tutti gli oli pregiati gli estratti di alghe e i fitocomplessi che contengono hanno un'azione molto potente contro le smagliature quindi anche come prevenzione servono tantissimo e vanno a migliorare proprio nel complesso tutta la pelle vanno a renderla omogenea schiarire le imperfezioni quindi io veramente veramente ve li straconsiglio poi sono ricchi di ingredienti naturali ad esempio il siero all'acido olio aluronico oltre all'acido olio aluronico contiene anche l'aloe vera che è fantastica per la pelle e qua sono con il mio aiutante che come vedete mi aiuta sempre a spalmare la crema quindi lui praticamente è il mio massaggiatore personale comunque ragazze sono piacevolissime anche perché utilizzarli in combo sia il siero all'acido olio aluronico e il golden radiant soil vi lasciano la pelle super super asciutta quindi non unta io me li porto sempre dietro ragazze il mio segreto è anche quello di portarli dietro con me quando ad esempio devo fare delle foto degli shooting o semplicemente indosso una con una gonna un abito voglio far brillare la mia pelle faccio un massaggio appunto con l'acido il siero all'acido olio aluronico e poi il golden oil e la pelle subito brilla e super luminosa e si ravviva un sacco la bronzatura infatti come vedete dal video la pelle è super super brillante anche in questo caso lo metto sulle gambe sulle braccia sul decoltello effetto che fanno sulla pelle è veramente bello anche la sensazione super super piacevole perché il siero all'acido olio aluronico è super rinfrescante e leggero quindi va a dare proprio sollievo alle gambe vi consiglio di utilizzarlo anche alla sera prima di andare a dormire e di posizionarvi poi con le gambe un po alzate su un cuscini per avere sollievo quindi combattere proprio la stanchezza accumulata durante il giorno anche il gonfiore infatti vedete l'olio lo metto praticamente dappertutto ragazze me ne sono innamorata quindi vi ho detto dopo la doccia dopo il mare portarvelo dietro in tutte le situazioni in cui volete illuminare la vostra pelle idratarla tonificarla e combattere tutti i più frequenti inestetismi come appunto la ritenzione la cellulite le smagliature il rilassamento cutaneo eccetera io e daniel vi salutiamo spero tanto che il video vi sia piaciuto lui è stato il mio aiutante per tutto il video mi ha aiutato come avete visto a spalmarmi i prodotti su tutto il corpo vi mando un bacio grandissimo e vi lascio i link nel box informazione dei prodotti e il codice sconto sul sito freshly cosmetics del 25 per cento e carlita dolce approfittate ancora un bacio e buon'estate ciao ciao iscriviti al canale